Il mogol battistico Foscolo vorrei recitare per voi i sepolcri versetto 282.322 o semmai d'argo questo è l'inizio, io ho detto versetto 282 cioè se viene lui non vado via io, questo deve essere chiaro comunque, lasciando da parte microfono, microfono aspetta pure, aspetta e uscir dal teschio dove fuggia la luna l'ucuba e svolazzar su per le croci sparse per la materia campagna e riempir l'immonda di luttuosi simbulti rai di che son più le stelle arrucliate e poi giù sesso ai greci cose in forte animo accettano le urbe e l'opio di Devo applauso anche a Franco comunque questa è una canzone che ho scritto con Bobbi solo e non è andata malissimo facciamo a loro 1.200.000 copie e insomma la porto ancora pure grazie ragazzi Mario sconcente grazie a tutti 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 di dirlo da poi che non sono il vino e un miracolo che non vuole che sia vera in questo risalto per me che non amo e per te lei si chiamava Silvia che mi disse di no non ho mai capito non sapevo che che tu che tu tu devi farvi ma come me non provarvi mai il coraggio di non porto il risalto di e un miracolo l'amore che si avvera in questo risalto per me che non amo che si bravo Mario Mario Scoccierti io faccio il carrucciere Sandy Colation ciao 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 Grazie.